Ciao a tutti amici di CDK, qui la vostra Askel che vi parla e vi dà il benvenuto nel video del 19 gennaio dedicato ai giochi in uscita e ai giochi gratis e ai giochi scontati che si richiede a proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch per i miei streaming oppure sul mio social di Instagram per i miei aggiornamenti. I link sono tutti quanti iscritti in descrizione e nel metto noi possiamo iniziare con la presentazione dei giochi di oggi. Il primissimo gioco gratis che presentiamo per chi ha elaboramento ad Amazon Prime e quindi anche Twitch Prime è Two Point Hospital che è un gioco diciamo gestionale in un certo senso dove dovete gestire il vostro ospedale personale e anche molto particolare quindi assolutamente consigliato di riscattarlo per rimanere per sempre nella vostra libreria e non perdetevi tutti gli altri giochi gratis con Twitch Prime. Invece perché ha elaboramento all'Xbox sta andando un sacco di giochi tra cui Aground che è un gioco di cui avevo già sentito parlare ed è un gioco pixeloso se non sbaglio anche a scorrimento orizzontale di combattimento azione avventura davvero molto particolare e divertente quindi consigliate anche qui di riscattarlo e di giocarlo qui mi raccomando provatelo. Invece gratis perché ho elaboramento a PlayStation Plus questo mese e stanno dando un po' di giochi tra cui Birth 5 che è assolutamente un classico che assolutamente dovete giocare e dovete provare soprattutto se vi piacciono i giochi di corsi di macchine che davvero merita un sacco. Quindi assolutamente giocatelo, fatelo anche online con i vostri amici perché potete giocarlo online con i vostri amici e non perdetelo. Invece gratis sul sito di Humble Choice sta andando Mafia Definitive Edition che anche qui è un signor gioco che prima avevamo dato con dei grandi sconti adesso lo potete avere gratis quindi mi raccomando approfittatele perché è un ottimo gioco di combattimento azione molto particolare a tema mafia quindi consigliato. Invece per i giochi in uscita il 20 gennaio, cioè ufficialmente domani, uscirà Expeditions Rome che è già adesso scontato dal 40% ed è un ottimo gioco diciamo gestionale di guerra comunque molto particolare quindi consigliate tenere d'occhio domani nella sua data di uscita perché solo da noi lo avrete scontato mi raccomando. E invece sempre il 20 gennaio uscirà anche un nuovo evento o comunque DLC di Rainbow Six cioè Extraction che è un ottimo gioco se non avete giocato a Rainbow Six ma vi consiglio anche di prendere questo nuovo DLC perché potete giocarlo anche online con i vostri amici quindi mi raccomando consigliate anche perché già adesso è scontato del 40% quindi mi raccomando non perdetelo. E invece il 20 gennaio arriverà il gioco che tutti stiamo aspettando cioè Pokémon Legends Arceus che uscirà per Switch e che tutti quanti sono super entusiasti e tenete d'occhio anche la data di uscita perché già adesso è scontato dell'8% ma vedete che più là ci saranno altri sconti quindi tenete d'occhio il nostro sito per futuri sconti del gioco. E invece il 4 febbraio finalmente uscirà anche Dying Light 2 il nuovo capitolo della serie che so che in molti stavano aspettando anche con abbastanza impazienza quindi assolutamente consigliate tenere d'occhio il nostro sito per altri futuri sconti perché già adesso è scontato del 40% quindi non perdetevi tutti quanti questi giochi in uscita in queste ultime settimane. E invece per giochi super scontati a poco meno di 25€ con uno sconto di quasi 60% abbiamo Neo 2 The Complete Edition che anche qui è un signor gioco che davvero merita soprattutto se vi piacciono i giochi in stile Souls-like questo è molto bellino in stile orientale merita tantissimo quindi consigliato. E invece a poco meno di 20€ scontato del 61% abbiamo Scarlet Nexus un ottimo gioco di combattimento e di azione che personalmente mi fa molto ricordare i miei stili di gioco di Souls-Worker che avevo già giocato in passato su Steam ed è davvero molto bellino soprattutto a poco meno di 20€ scontato del 61% ho preso stracciatissimo quindi tenetelo d'occhio e pensateci se compravlo. E invece a poco meno di 21€ con uno sconto del 65% abbiamo Guilty Gear Strive un ottimo gioco arcade esperimento orizzontale potete giocare uno contro uno anche online è davvero molto bellino con uno stile grafico davvero molto accattivante quindi tenete d'occhio anche questo sconto perché a 20€ ho preso davvero stracciato quindi approfittate. Invece ultimo ma non mi importate The Medium a 16€ scontato è stato a 7% è un gioco creepy horror molto particolare che vi consiglio comunque di provare perché merita un sacco quindi comprato ovviamente da CDK. Noi con quest'ultimo gioco possiamo concludere il video di presentazione di oggi o vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima presentazione dei giochi o prima vi aspetto sul mio canale Twitch e sui miei social. Alla prossima, ciao ciao!